Solo la DAG AUTO, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz DAG AUTO, variante Est, mano calzati, 0825 67 52 02. Davvero molto ma molto importante, sotto tanti punti di vista. Importantissima perché abbiamo dato un segnale al campionato, era la prima di ritorno, volevamo portare ad Avellino un risultato positivo, credo che alla fine ci siano riusciti anche meritatamente, primo tempo hanno fatto meglio loro, secondo tempo credo che abbiamo rischiato pochissimo, è normale che dobbiamo essere più attenti perché non dobbiamo regalare gol del genere. Ecco però c'è stata una metamorfosi incredibile perché siamo partiti davvero male, nonostante poi eravamo riusciti ad andare in vantaggio, nella ripresa si è vista solo una squadra in campo, questa è stata l'Avellino due gullo, quella attraverso tua con un colpa d'effetto incredibile, ma è stato l'atteggiamento completamente diverso. Ma sono state due partite diverse, nel primo tempo eravamo in difficoltà in tutti i sensi, anche se si è andato in vantaggio, poi abbiamo preso subito due gol ma potevano anche farne altri loro, poi nel secondo tempo ho visto un grande Avellino, un'altra partita, eravamo più corti tra i reparti e li abbiamo messi lì, poi tutto sommato credo che abbiamo meritato anche la vittoria. Al triplice fischio ti sei inginocchiato, hai rivolto lo sguardo verso il cielo, la dedico ovviamente a tuo padre e poi c'è stato l'abbraccio con la curva e questo il segnale più bello soprattutto per il futuro? Ma assolutamente, ogni mia prestazione e ogni mio gol sarà sempre per il mio padre, quello è il minimo che posso fare, poi l'abbraccio con la curva credo che noi lo sappiamo, noi abbiamo bisogno di loro, oggi l'hanno rimostrato per l'ennesima volta, si sono fatti sentire questa vittoria anche per loro. Ecco Gigi, ora arriva alla Cremonesa dell'ex Tesser, è una sfida, questa è importante probabilmente per l'alta classifica, però in questo momento guai a fare voli d'alta classifica a voli Pindarici. Ma assolutamente no, è un campionato difficile, lo sappiamo, noi abbiamo 28 punti che non sono pochi, ci guardiamo dietro ma perché no, guardiamo anche avanti, domenica e sabato abbiamo una partita difficilissima contro una delle squadre credo più in forma del campionato, ma noi dobbiamo dare continuità, solo così possiamo vedere l'avellino in che parte della classifica potrà arrivare.